Buonasera a tutti e benvenuti a Piovono Idee sul Medio Valdarno, iniziativa del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno con un titolo ideato dal nostro presidente Marco Bottino per raccogliere appunto una pioggia di idee, di proposte, di indicazioni e confrontarci sui temi della didattica e della divulgazione ambientale e scientifica. Un percorso a cui teniamo molto, che è quello del rapporto con le scuole, della divulgazione del nostro lavoro e dei temi che ci stanno tanto a cuore. La parola a Marco che ci racconta del loro progetto Un Fiume per Amico, è un progetto che va avanti da molti, molti anni e che ha dei numeri davvero importanti, vero Marco? Lasciamo adesso la parola al professor Bernardo Gozzini dell'AMMA che ci parlerà del cambiamento climatico e dei suoi impatti proprio sul nostro territorio, il territorio toscano. Mi fa molto piacere anche che questi progetti siano contaminanti fra territori e territori. È importante creare sinergia, una rete tra diverse istituzioni, tra l'università, tra consortium, tra diverse competenze affinché avviare questo cambiamento che è più che mai necessario. Il clima cambia, ce l'ha spiegato Gozzini e poi al suolo trova città pesantemente urbanizzate. Un gran numero di amici ci sono venuti a trovare oggi, li abbiamo invitati, hanno accettato il nostro invito e tanti, tutti hanno portato un contributo. Chi critico, chi culturale, chi da un punto di vista giovanile, chi dal punto di vista della dirigenza scolastica. Piovono idee, noi che siamo abituati ad arginare i fiumi, probabilmente se riusciamo a non governare l'onda di questo sasso che viene buttato nello stagno e a fare sondare le idee e permearne la società, credo che diamo un contributo importante. Grazie a tutti.